No, la sorella del caos non appare dopo aver ucciso quella alca, ragazzi Questo mito deve scomparire Ah no, è perché siamo... oddio, siamo online Siamo... siamo online? Eh, potrebbe succedere in effetti Se... sì, sì, no, essendo online è vero potrebbe effettivamente succedere Touche Touche Non posso... non potete... purtroppo non si può avere la moglie piena e la botte ubriaca, ragazzi Se volete la mano scura prima... Noi, è piena e la botte ubriaca Perfetto Allora Ehm... Eh, vabbè Doveva succedere un'altra volta Noi, è piena e la botte ubriaca